Blitz al mercato ortofrutticolo ricontrato a Giardinelli e a Gela, carabinieri del reparto territoriale, militari del NAS, l'uncleo antisofisticazioni e agenti della Polizia Municipale, settore Annona, hanno passato il setaccio ai vari box al fine di riscontrare la presenza delle autorizzazioni all'interno del sito e verificare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari posseduti dai commercianti. Sono state riscontrate numerose anomalie, sotto posse di un controllo una cinquantina di rivenditori di frutta e titolari di alcuni box esistenti all'interno del mercato. Due cittadini gelesi di 57 e 61 anni sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per avere costruito opere abusive all'interno del mercato per invasione di edifici pubblici. Secondo quanto accertato, hanno utilizzato, indebitamente dopo averlo forzato, un box di proprietà comunale senza alcuna autorizzazione. Durante l'attività di verifica, i militari dell'arma e gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato 10 rivenditori perché totalmente abusivi e hanno sequestrato 3 tonnellate e mezzo di frutta perché di dubbia provenienza e non adatta al consumo umano. La merce sequestrata sarà poi distrutta mentre sono in corso ulteriori accertamenti sulla titolarità delle licenze di commercio su eventuale pratica di interposizione fittizia nella gestione delle attività economiche. Due dei soggetti identificati questa mattina all'interno del mercato hanno alle spalle condanne per associazione di tipo mafioso. Complessivamente, le sanzioni amministrative elevate nell'operazione ammontano circa 10.000 euro. I controlli di oggi rappresentano soltanto il prologo di una più vasta operazione, cosiddetta di pulizia, per individuare coloro i quali non sono in possesso dei relativi requisiti.